Riccardo Cristiano, Liberi TV, San Giovanni in Fiore. Siamo in compagnia di Caterina Basile, che è responsabile in questo momento per una raccolta, si chiama Progetto Pamoya, organizzato appunto dalla terra di Piero. Ci vuoi semplicemente spiegare in questo periodo come si sta svolgendo questa raccolta? La raccolta si svolge a Cosenza e in molti posti della provincia, non solo della provincia. Per esempio io sono la responsabile per San Giovanni in Fiore, infatti se andate sul sito della terra di Piero per San Giovanni in Fiore trovate il mio numero. Stiamo facendo una raccolta di indumenti, soprattutto indumenti estivi perché in Tanzania fa abbastanza caldo e abbiamo coinvolto quindi alcune scuole. Nelle scuole stiamo raccogliendo questi vestiti per bambini, una raccolta di farmaci in cui c'è appunto questa parafarmacia e altre farmaci di San Giovanni in Fiore, in particolare la farmacia del dottor Sevi Oliverio, la farmacia del dottor Antonio Oliverio e la farmacia del dottor Musacchio. In alcuni giorni specifici della settimana si fanno delle raccolte alimentari in alcuni supermercati della città di San Giovanni in Fiore. Comunque in ogni caso per San Giovanni in Fiore la responsabile sono io, quindi mi potete contattare in qualsiasi momento, c'è il mio numero sulla pagina della terra di Piero e potete lasciarmi il materiale che desiderate donare. Si parlava poco fa con il dottore della terra di Piero e appunto di questa operazione che sarà fatta in Tanzania. Cosa pensa di questa attività della parafarmacia qui a San Giovanni in Fiore? Buonasera a tutti. Sì, in realtà come ha già detto il dottor Lombardi non è la prima volta ma tutte le volte c'è stata la necessità di fare una raccolta farmaci, in questa parafarmacia è stato possibile. Per onestà devo dire che non è l'unico posto San Giovanni in Fiore dove si fa questa raccolta farmaci ma anche in altre farmacie, parafarmacie del paese c'è la raccolta di farmaci. La terra di Piero, in questo momento è necessario fare la raccolta per la terra di Piero perché il container per la Tanzania partirà intorno alla metà di marzo e oltre a indumenti, vestiario, cibo, la cosa più necessaria in questo momento da mandare in Tanzania perché purtroppo ci sono molti orfanotrofi dove ci sono molti bambini affetti da HIV e la necessità di avere dei farmaci. Con questo non si intende salvare nessuno ma solo migliorare un pochino le condizioni di vita di questi bambini che purtroppo non hanno colpe, sono nati così e non hanno colpe e quindi cerchiamo di fare il possibile. Tra l'altro si sprecano tantissimi farmaci ogni anno, li facciamo scadere magari forse anche un po' colpa delle confezioni che sono un po' troppo grandi si parlava qualche tempo fa di ridurre le confezioni per evitare gli sprechi però donare è un gesto veramente gratuito e magari si può addirittura salvare una vita o più vite in posti come la Tanzania dove la povertà è altissima. Sì, effettivamente una delegazione della terra di Piero è partita a fine ottobre per fare un resoconto della situazione in Tanzania si è visto che farmaci anche come la tachipirina o farmaci che per noi sono banali lì sono estremamente necessari infatti quello che si richiede sono farmaci anche semplici la tachipirina o farmaci paracetamolo anche le bende, le gazze perché lì veramente manca tutto quindi questo è vero, quello che hai detto tu infatti è vero il fatto che molte volte noi compriamo i farmaci che li lasciano scadere e li buttiamo E poi vorrei dire un'altra cosa, dove possono trovarvi le persone non solo di Cosenza ma diciamo della Calabria che volessero donare personalmente del tempo, dei farmaci qualcosa alla terra di Piero perché la terra di Piero periodicamente fa delle raccolte e non si occupa solo dei farmaci, ad esempio manda del vestiario manda tutto quello che è necessario dove vi possono trovare, dove possono trovare a Cosenza la struttura o comunque un sito internet o la pagina Facebook? Allora a tutti i posti a Cosenza in questo momento si sta facendo una raccolta verso un capannone nella zona industriale di Cosenza comunque tutte le informazioni sono reperibili sul sito della terra di Piero www.laterradipiero.it e in provincia, non solo in provincia di Cosenza in realtà perché anche a Crotone si sta facendo raccolta e a San Giovanni in Fiore possono per esempio rivolgersi al dottor Lombardi comunque tutte le informazioni sono reperibili sul sito della terra di Piero Perfetto, io ringrazio il tempo che ci ha dedicato soprattutto perché queste iniziative benefiche fanno diciamo ben sperare per il futuro perché alla fine poi nasce tutto da un gesto e il gesto in questo caso nasce dalla terra di Piero che con tanti piccoli gesti sta sensibilizzando le coscienze delle persone che alle volte sono intorpidite Grazie ancora e soprattutto buona raccolta del farmaco e buona vita direi io Grazie 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 Grazie